Una stele dedicata a Pietro Mennea, alfiere dello sport scomparso di recente, un annullo filatelico di poste italiane. Il Comitato Italiano, Procane della Battaglia, celebra così il 2229esimo anniversario dalla celebre disfatta dell'esercito romano ad opera dell'esercito di Annibale il Cartaginese nel 216 a.C. Il condottiero arrivò nella valle dell'Ofanto attraversando le Alpi. Stefano Luci, attore di teatro, lo interpreta in questa maniera, ricordando il momento prima della battaglia. Siamo morti di fame, morti di freddo, di sporcizie e di lordura. Ecco questo sì che si può dire. Molti di noi hanno le membra raggrinzite dal gelo e sconquassate e fracassate le armi oltre che le ossa. Molti di noi, partiti con noi, tra di noi, per loro fortuna, non ci sono più. E allora? Non abbandoniamoci. Non sarà la paura del freddo a fermare gli africani. Tra rocce e sassi, sopra queste montagne immense, saliamo! Un sito di enorme valore storico che va assolutamente valorizzato, dicono a Barletta, a partire dall'antiquarium della cittadella, a finire alla piccola stazioncina sulla tratta ferroviaria che porta Spinazzola. Oggi noi uniamo questo grosso avvenimento del ricordo all'attualità di un sito che va assicurato ad una valorizzazione. Sottolino la parola assicurato, come se fosse una garanzia per il bene pubblico.